Musica Buon pomeriggio e bentrovati, edizione delle 14 del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Francesco Migale, dipendente 49enne della provincia di Crotone, è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari con l'accusa di millantato credito. Migale si sarebbe fatto consegnare la somma di 1000 euro da un disoccupato, al quale aveva promesso il suo interessamento con un dirigente per l'assunzione nella riserva marina di Isola Caporizzuto. Ma vediamo il servizio. Si era fatto consegnare 1000 euro da un disoccupato, promettendo di farlo assumere nell'area marina protetta di Isola Caporizzuto. Per questo i carabinieri della compagnia di Crotone hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Francesco Migale, 49 anni e dipendente dell'amministrazione provinciale di Crotone. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Crotone, Bianca Maria Todaro, sul richiesta del Procuratore della Repubblica, Raffaele Mazzotta, e del sostituto procuratore, Alessandro Aiello, nella giornata di ieri. Le indagini, durate 5 mesi, hanno permesso ai militari dell'arma di ricostruire non solo la promessa fatta dal dipendente pubblico al disoccupato, ma di accertare anche ripetute condotte delittuose commesse dall'indagato. Migale, nello specifico, avrebbe infatti vantato rapporti con il dirigente dell'area marina, facendosi così consegnare 1000 euro dal disoccupato, per convincere lo stesso dirigente ad assumere il giovane in cerca di lavoro. Al termine delle indagini e delle operazioni di rito, sull'uomo è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare, tradotta poi nello specifico in arresti domiciliari. Un giovane romeno, Luciano Costellartene, morto sul colpo a Corigliano Calabro dopo che l'auto sulla quale si trovava insieme ad un'altra persona che era alla guida si è schiantata contro un muro di contenimento. L'auto si era sottratta poco prima ad un posto di blocco dei carabinieri che stavano inseguendo i due occupanti della vettura. Il conducente, che è riuscito a dileguarsi dopo l'impatto, non si era fermato e aveva cercato di investire il capopattuglia dei carabinieri. L'inseguimento che ne è scaturito è proseguito fino ad una strada interpoderale dove l'auto ha finito la propria corsa. Restiamo alla cronaca. Sono sette, tra cui professionisti, le persone fermate nell'operazione congiunta di polizia e guardia di finanza a Corigliano per falsi incidenti stradali e pensioni di invalidità. Ha accertato anche un caso di procreazione, successivo aborto premeditato al volontario al fine di percepire l'indennità di assicurazione. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Non è solo una truffa con false pensioni di invalidità e di incidenti stradali, ma molto di più. Una vicenda drammatica e moralmente deplorevole. Oltre al danno alle casse dello Stato per l'ammontare di 2 milioni di euro l'assurdo omicidio di un neonato, concepito allo scopo e con l'intento di ottenere un risarcimento assicurativo. Sono 7 le misure cautelari eseguite congiuntamente da polizia e guardia di finanza a Corigliano nel corso dell'operazione denominata Medical Market. 144 le persone complessivamente coinvolte, un sistema ad arte messo su da medici, un avvocato, un pregiudicato e coppie consenzienti. 4 sono finite i domiciliari, un medico, la partoriente, un'amica della partoriente, mente del sistema ed un pregiudicato che muoveva le fila del meccanismo. Notificati poi i due obblighi di firma e la sospensione della professione per l'avvocato. Le indagini sono partite nella seconda metà del 2012, cercando di fare luce su una strana trasmigrazione verso l'ospedale di Corigliano. Da intercettazioni sono venute fuori le alterazioni di referti RX, tutto allo scopo di imputare patologie e danni a incidenti stradali al fine di ottenere i risarcimento e dalle assicurazioni. Quest'indagine nasce sulle ceneri di un'attività investigativa svolta in precedenza. Quello che si è notato anche con l'utilizzo di indagini tecniche, di attività di indagine più classica, è l'esistenza di una vera e propria organizzazione, in cui ognuno aveva il proprio ruolo, al fine di produrre false certificazioni sanitarie, false certificazioni mediche, da poi poter utilizzare per ottenere i leciti rimborsi, sia nei confronti di assicurazioni, quindi simulando anche incidenti stradali, sia nei confronti di enti assistenziali e previdenziali. Noi stiamo notificando 144 avvisi di garanzia perché appunto a valutitolo si sono rese protagoniste queste persone di questa tipologia di attività di truffa. Un macabro episodio poi, quello emerso dalle indagini. Nel 2012 una giovane donna di 37 anni aveva simulato un incidente stradale presentandosi al pronto soccorso denunciando che il sinistro le avrebbe provocato la nascita prematura del bambino. In realtà, secondo gli investigatori, la donna con il suo consenso era stata indotta volontariamente a partorire prematuramente con la tecnica del pinzamento. Il bambino era stato concepito allo scopo farlo nascere prematuramente con le tecniche indicate dal medico e qualora nato vivo lasciarlo morire. Questo successe con il neonato che seppur venuto alla luce forzatamente lottava per la vita anche di fronte alle cure inondate come supporto di ossigeno o taglio del cordone ombelicale. L'operazione gravissima che ci ha lasciato veramente sconvolti per i risultati che purtroppo abbiamo amaramente accertato. Non si può impedire la vita ad un bambino. Quindi un bambino nato vivo, nonostante si sia cercato prima di ucciderlo, di sopprimerlo, nato vivo, non sono state nemmeno apprestate le minime cure per poter, nonostante tutto, riuscire a tenerlo in vita. Agli indagati vengono contestati a vario titolo i reati di omicidio volontario, falso ideologico, immateriale in atto pubblico, corruzione, peculato, frode e truffa ai danni dello Stato. Scoperti anche 45 falsi invalidi e casi di assenteismo. Deposito delle ferrovie dello Stato in fiamma è nel Vibonese. Non è stato ancora accertato se il ruogo divampato sia di origini dolose. Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha provocato danni ad un edificio adibito a deposito nella stazione ferroviaria di Nicotera. La struttura è di proprietà delle ferrovie dello Stato ed è destinata a deposito sul posto. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per stabilire, oltre alla natura dell'incendio, anche i danni. Cambiamo argomento. Torniamo a parlare dell'arresto del latitante Trimboli con il comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria Lorenzo Falferia a margine della conferenza stampa che si è tenuta ieri nella città dello Stretto. Ma vediamo il servizio. Il carabiniero, le forze dell'ordine, lo Stato in generale pone tra le sue priorità anche la cattura dei latitanti. Oggi uno dei 100 latitanti più pericolosi. Assolutamente sì. è un impegno costante che l'arma dei carabinieri ma tutte le forze di polizia esercitano sul territorio nazionale proprio in un secolo di direttive che sono state date dal Ministro dell'Interno. La cattura dei latitanti è doppiamente importante non solo per l'effetto che la cattura dei latitanti ha sulle dinamiche criminali del territorio, ma perché aiuta a scardinare il sistema di legami, di cointeressenze economiche e familiari che sono la base della operatività e della capacità di penetrazione della criminalità organizzata. Colpire un latitante non solo è un dato numerico rilevante, ma lo è anche perché mina alla base la capacità di azione della criminalità organizzata, in questo caso dell'andrangheta. A proposito di legami in chiusura di conferenza stampa posso l'accento su un dato particolare, forse un po' eccezionale per quello che finora ci ha raccontato l'andrangheta. Un latitante della Locride che si nasconde e trova rifugio nella Piana. Cosa può voler dire? Questo non fa che confermare che l'azione criminale è sostanzialmente unitaria. Ci sono dei legami che non sono semplicemente di federazione, ma di aiuto reciproco, di cointeressenze e quindi il fatto che dei pregiudicati di Oppido Mamertina sostenessero la latitanza, favorissero la latitanza di Trimboli Natale è significativo in questo senso. Era sicuramente una ricollocazione logistica e anche perché la distanza, come è stato precisato precedentemente, fra le zone di interesse, più segnatamente quelle di Platì e Molocchio, sono veramente prossime, sono veramente vicine. Quindi si è trattato sicuramente di uno spostamento di natura logistica. Ieri l'inchiesta della Didia di Roma ha portato a galla un codice, un altro codice di San Luca. Oggi avete posto l'accento anche sui matrimoni in trecci di sangue tra le varie cosche. Segno che la cosiddetta andrangheta Coppola e Lupara forse non si è stinta ancora. Ci sono fior di sentenze che dimostrano chiaramente come il legame col territorio e con certi principi arcaici di appartenenza allo stesso non vengono assolutamente smentiti dalla potenziale internazionalità del fenomeno andranghettista. Credo che le due anime convivano continuamente in tutti i criminali di maggior spessore della andrangheta di Reggio Calabria. Nell'auditorium del liceo scientifico Filolao si è tenuto un incontro organizzato dalla CGL di Crotone come attività politica di contrasto alla cultura mafiosa. Sentiamo. lei lo ha detto durante il suo intervento che è un problema che riguarda un po' tutto il territorio nazionale non solo il sud. Sì io ho voluto dire che bisogna essere contro le rappresentazioni che cercano di rendere evidente che l'illegalità e la corruzione sono fenomeni legati ad alcune specifiche regioni. Non è così lo dimostrano i fatti lo dimostrano le indagini lo dimostrano i rapporti contro la corruzione anzi laddove diciamo c'è un tessuto economico più fertile l'illegalità e la corruzione ha anche maggiore possibilità di insediarsi quindi bisogna assumere questo elemento per essere efficaci nel contrasto all'illegalità. Questo incontro con i giovani con le scuole per cercare di attenzionare appunto le nuove generazioni a questo problema? Sì sono importanti poi bisognerebbe studiare lo dico anche modalità di relazione di comunicazione che siano un po' più semplici e che permettano anche ai ragazzi di interloquire su questi temi da questo puntista forse dobbiamo fare dei passi in avanti però è anche vero che nel territorio ci sono esperienze molto importanti come i campi della legalità e bisogna lavorare perché i ragazzi del territorio partecipano a queste iniziative ma mi sembra che io dai giri che ho fatto ieri e oggi in Calabria a questo livello di attenzione sia assolutamente presente nelle giovani generazioni Anche perché bisogna dire che durante l'incontro si è parlato un po' di tutti gli argomenti che comprendono appunto l'illegalità in questo caso come fare per far diventare legale tutto ciò Sì il tema è molto ampio perché si va dagli appalti all'integrità delle pubbliche amministrazioni all'anticorruzione all'evasione a che cosa possono fare i comuni quindi un terreno oggettivamente vasto dove è evidente che non può essere contrastato soltanto attraverso l'azione giudiziaria repressiva servono norme servono leggi servono codici di comportamento all'interno delle realtà pubbliche servono norme sugli appalti quindi si potrà essere efficaci se c'è questo concorso e questo contributo da parte di tutti non serve soltanto l'azione giudiziale legislativa anche se poi ha la sua importanza perché da quella si genera il quadro delle possibili azioni di contrasto affinché tutti i dipendenti della fondazione campanella abbiano la possibilità di rientrare nel programma di cassa integrazione ministeriale nel caso in cui venisse attivato il presidente Paolo Falzea ha decretato una posticipazione fino al 31 gennaio della scadenza di tutti i preavvisi di licenziamento per i dipendenti in essubero vediamo il servizio la scadenza di tutti i preavvisi di licenziamento per i dipendenti in essubero della fondazione Tommaso Campanella è stata posticipata il 31 gennaio la decisione spiega Paolo Falzea presidente della fondazione è scaturita dalla necessità di avere per tutti una data uniforme di preavviso considerato il fatto che molti hanno ricevuto la raccomandata con il preavviso in date differenti la posticipazione farà slittare le scadenze per il licenziamento garantendo a tutti i dipendenti che corrono il rischio di andare a casa ha sottolineato Falzea la possibilità di entrare qualora venisse attivato nel programma di cassa integrazione di cui faremo richiesta domani anche senza l'accordo nazionale con i sindacati nei giorni scorsi infatti le organizzazioni sindacali il management della fondazione ed il presidente della regione Mario Oliverio hanno deciso dopo alcuni incontri di chiedere al ministro del lavoro di procedere all'attivazione della cassa integrazione richiesta ha aggiunto il presidente Falzea sorretto dal piano industriale ideato dal subcommissario Andrea Urbani che fa legittimamente pensare ad un programma di sviluppo da mettere a punto per il riassorbimento del personale e per la salvezza della fondazione stessa quanto ai debiti i nostri creditori conclude Paolo Falzea ci hanno lasciato un margine di tempo in più per trovare il modo di soddisfarli fino al 30 marzo intanto però abbiamo fatto una riconizione di crediti che vantiamo nei confronti dell'ASP per prestazioni rese che se venissero pagati ci consentirebbero di appagare le giuste pretese di avere gli stipendi avanzati dai dipendenti Il presidente della regione Mario Oliverio informa una nota dell'ufficio stampa della giunta ha ricevuto una lettera di ringraziamento da parte del commissario straordinario dell'autorità portuale di Gioia Tauro per avere risolto così in breve tempo una questione che si trascinava da mesi grazie al tuo autorevole intervento scrive Giovanni Grimaldi dell'Uiverio può essere eseguito il dragaggio del canale portuale di Gioia Tauro per ospitare le navi di ultima generazione dell'accordo 2M in tutta sicurezza e cambiamo decisamente argomento gli attivisti del comitato prendo casa di Cosenza hanno occupato la prefettura Abruzzi alla base dell'iniziativa il no allo sgombero delle canossiane stabile occupato dal comitato un anno fa in cui hanno trovato alloggio non poche famiglie senza casa ma vediamo tutti i dettagli nel servizio hanno voluto dire no allo sgombero delle canossiane sicuri che sia ormai imminente così il comitato prendo casa proceduto all'occupazione della prefettura di Cosenza seguito dalle non poche famiglie che nello stabile gestito da religiose hanno trovato un tetto dopo mesi e mesi di trattative di rassicurazioni di trattative che sono intercorse tra il comune e le canossiane oggi le canossiane e la questura e il tribunale fanno nuovamente pressioni per riavere libero e sgombero lo stabile delle canossiane si stanno mettendo in mezzo alla strada centinaia di persone famiglie bambini disabili persone anziane persone che non hanno un'altra alternativa mentre d'altra parte la politica non dà risposte mentre d'altra parte è di questi giorni l'ennesimo scandalo cioè quello che noi chiediamo da mesi mesi e mesi anni anche i 155 milioni di euro di fondi ex Gescal fermi nelle casse della regione Calabria dal 2008 che oggi si scopre sono stati utilizzati per consulenze dall'aterp di Cosenza che sono stati utilizzati per costruirsi i palazzi di rappresentanza dall'aterp di Vibbo e chissà quante altre allegre spartizioni nell'intera classe politica calabrese sono state fatte insomma richieste precise e soprattutto un tavolo da cui sperano si trovino soluzioni dicono alla grave emergenza abitativa che contraddistingue Cosenza con il segretario interprovinciale della Cisla di Catanzaro Vibbo Valencia e Crotone abbiamo invece affrontato i temi della crisi del mondo del lavoro in Calabria vi proponiamo uno straccio dello speciale che andrà in onda nella giornata di oggi vediamo fino a detursi nei nostri studi parliamo un attimo del mondo del lavoro parliamo di questa Calabria che ha necessità di avere delle risposte sono tante le aziende in crisi tanti posti di lavoro che si stanno perdendo voi avete dei dati? ma dei dati che è meglio non evidenziarli costantemente perché correremo il rischio di ripetere sempre le stesse cose però è ovvio che c'è bisogno di una inversione di tendenza rispetto a delle politiche programmatorie che riguardano il mondo del lavoro riguarda il mondo dell'impresa riguarda il mondo del sociale ed ovvio che da questo punto di vista il ruolo fondamentale appartiene alle istituzioni locali più specificatamente a quello che oggi è la neo diciamo amministrazione regionale che si accinge ad alleggere i propri organismi quindi a partire con la propria programmazione speriamo che alla base della propria programmazione politica vi sia il lavoro la Cisle ha commentato e ha criticato quasi duramente posso dire il fatto del ruolo unico della proposta che era partita dal governatore Oliverio questa significherebbe in qualche modo togliere spazio alla democrazia o in realtà significa tagliare le spese che riguardano la regione ma noi non è che l'abbiamo criticato in modo duro cioè noi abbiamo espresso delle valutazioni in quanto è solo una enunciazione rispetto a quello che si vorrebbe fare perché se mirato esclusivamente ad una razionalizzazione diciamo di risorse economiche ovviamente lo devono dimostrare noi per principio non siamo né a favore né contro siamo per capire fino in fondo qual è la motivazione diciamo di razionalizzazione e di evitare gli sprechi che pur ci sono ci mancherebbe altro non è certamente la nostra una posizione spinta da un campanilismo Becero che ha fatto ormai il proprio tempo vorremmo ovviamente una riflessione comune con dati più precisi e la CISL che sta chiedendo questo mica sta chiedendo a prescindere che non è d'accordo anche perché teniamo presente che l'80% delle regioni d'Italia hanno questa divisione tra consiglio e giunta però se il governatore darà dei dati a noi convincenti la CISL è pronta a fare la propria parte Le notizie apparse sui media secondo le quali il POR Calabria 2014-2020 sarebbe stato restituito dalla commissione a causa di informazioni erronee contenute sono totalmente prive di fondamento e quanto fa sapere il Dipartimento regionale Programmazione Nazionale Comunitaria in una nota di ramata dell'Ufficio Stampa della Giunta in riferimento alle notizie pubblicate in questi giorni il programma prosegue la nota in fase di consultazione ed oggi a Roma si terrà un incontro tra l'autorità di gestione i funzionari della commissione e del ministero del lavoro per discutere le misure finanziate con il fondo sociale e voltiamo pagina siamo abituati a dire che i giovani strumentalizzano le situazioni di disagio che vivono in questo servizio possiamo dire che abbiamo giovani studenti in questo caso che sono consapevoli dei propri diritti e li rivendicano con rispetto in occasione dello sciopero degli studenti del liceo scientifico Filolao di Crotone che chiedevano alla provincia di ripristinare il servizio di riscaldamento della scuola abbiamo lanciato alcune provocazioni ad una studentessa Federica Voce e con compiacimento ci siamo resi conto che i giovani sono consapevoli dei loro diritti e riescono a fare gioco di squadra quando sono chiamati a difenderli Noi studenti non riusciamo a stare comunque zitti nel momento in cui i nostri diritti vengono meno ci siamo sentiti presi in giro dal momento in cui le risposte erano sempre così vane e non sapevano dare delle risposte precise alle domande che ponevamo rispondevano comunque in termini diversi pensando comunque che il messaggio non riuscisse ad arrivarci Una domanda che ti voglio fare è questa siete in tanti qua davanti alla provincia avete avuto una risposta positiva da parte degli uffici della provincia questo dimostra che i giovani quando vogliono riescono a mettersi insieme e a lottare per lo stesso diritto a fare di tutto Allora oggi è l'ennesima diciamo manifestazione che va ad esprimere proprio il concetto che noi giovani siamo la voce di tutta la città noi giovani nel momento in cui ci azioniamo riusciamo a fare tutto oggi siamo saliti noi rappresentanti a parlare col presidente della provincia e finalmente dovrebbe essere arrivata una risposta che ci ha assicurato sia definitiva ovvero che il riscaldamento dovrà continuare ad essere a persistere a scuola come definito fino alla fine dell'inverno non è una scusa per stare fuori per non andare a scuola per non studiare va specificato perché molte persone o anche magari i professori stessi nel momento in cui non sono sentiti diciamo presi in partecipe dalla situazione hanno iniziato ad affermare magari lo fate solamente per saltare a scuola quando in realtà oggi eravamo presenti c'erano presenti i ragazzi e anche dalla provincia si sentiva la nostra voce forte che questo è il messaggio che bisogna mandare non perché siamo piccoli non riusciamo a raggiungere grandi situazioni e grandi problemi e risolverli giovani crotonesi che si conquistano la loro cittadinanza e i loro diritti con impegno e senza cadere nella rete della maldigenza e dell'offesa parlano con rispetto e meritano rispetto presentato a Rende il manifesto della 57esima edizione del Carnevale di Castrovillari l'incontro si è svolto nella sede della BCC Mediocrati di Rende il servizio presentazione nella sede della BCC Mediocrati di Rende del manifesto della 57esima edizione del Carnevale di Castrovillari tutto secondo tradizione così come Kermes vuole divenuto ormai evento club per il Pollino la provincia di Cosenza ma la Calabria tutta abbiamo una grande collaborazione da parte dei cittadini di Castrovillari i quali nelle varie riunioni che abbiamo effettuato già hanno dimostrato grande sensibilità e si stanno preparando per affrontare questa nuova edizione lo stiamo facendo anche con le scuole approfitto per ringraziare i dirigenti scolastici i docenti che rubano del tempo sia alle lezioni sia al loro tempo personale per organizzare i ragazzi ma soprattutto i ragazzi noi avremo la partecipazione ci pregiamo di avere la partecipazione di tutte le scuole dai bambini delle scuole elementari delle scuole materne fino a quelle degli istituti superiori un grande ringraziamento ancora prima di iniziare un manifesto intenso in cui allegge il mistero quello della 57esima edizione che vanta alcune novità le novità per questa edizione sono ovviamente il focus sulla Cina che è un'importante manifestazione inserita nel Carnevale dove andremo a illustrare tutta una serie di attività culturali che vengono svolte in Cina e vengono riproposte qui oggi a Castrovillari ci saranno proiezioni di film mostre di pittura mostre fotografiche convegni importanti per far conoscere meglio la cultura cinese qui in Italia grazie anche a questa presenza massiccia del popolo cinese su tutto il territorio italiano a supportare l'evento anche quest'anno la BCC di Rende è un'antica manifestazione questa di Castrovillari e per una banca locale che è sul territorio da 108 anni mi pare anche giusto affiancare queste belle manifestazioni e poi merita quindi pensiamo che con il supporto della banca può servire a far crescere sempre di più questo evento e far valicare i confini territoriali, regionali ed era l'ultima notizia grazie per essere rimasti con noi vi auguro un buon proseguimento e vi lascio in compagnia della pagina dedicata allo sport una notizia che era nell'aria arriva a Clotone con la formula del prestito con diritto di riscatto per l'acquisizione definitiva da parte del team pitagorico e contro riscatto in favore del Bologna il portiere Dejan Stojanovic classe 93 naturalizzato macedone e nato a Feldrich in Austria un altro tassello importante a disposizione di Mr. Drago che potrebbe inserirlo tra i pali già dal primo minuto contro il Latina intanto a partire da oggi e fino alla fine del primo tempo della gara con il Latina sarà possibile sottoscrivere un mini abbonamento all'uscita per i non possessori della tessera del tifoso di fatti la società ha introdotto il vocere elettronico che permette ai tifosi di acquistare i tagliandi d'accesso all'uscita per tutte le gare di ritorno l'iniziativa è rivolta ai settori Tribuna Scoperta Curva Nord e Curva Sud al momento dell'acquisto bisogna presentare una foto formato tessera che sarà applicata da subito alla card d'accesso per tutte le gare interne del Crotone dalla sfida con Latina fino alla fine del campionato la card si può acquistare solo ed esclusivamente presso la biglietteria ufficiale Rosso Blu sita in viaggi di Vittorio dalle 10 di questa mattina alle 13 nel pomeriggio dalle 16 alle 19 orari identici anche per domani venerdì mentre sabato la si può acquistare dalle 9.30 fino alla fine del primo tempo quando speriamo il Crotone abbia già sbrigato la pratica laziale Marco Nappi è tornato sulla panchina del Montalto per questo possiamo definirlo miracolo della salvezza? Sì hai detto bene proprio un miracolo però consapevoli che mancano 15 partite alla fine può succedere tutto il calcio è bello per questo puoi anche fare un filotto e tirarti fuori completamente oppure lottare fino alla fine e la metteremo tutta per portare il Montalto alla salvezza la prima parte di campionato avevi fatto 7 partite 6 punti se non ricordo male poi sei tornato grande esordio vittoria in trasferta con la Leon Fortese poi la partita sospesa con la Gioiese recuperata e persa nel finale e la scorsa settimana questa sconfitta casalinga con il Noto un altro scontro diretto sì la sconfitta con il Noto diciamo da una parte che può essere anche meritata perché non abbiamo fatto tanto bene soprattutto come squadra la partita con la Gioiese è stata pesante perché prendere gol al 95esimo e vedere loro esultare e noi l'arbitro fischiare la fine è stata un bel colpo però caccia a questo la partita dura anche 100 minuti perciò deve servirci da lezione e ora andremo ad affrontare una partita importante a Messina contro i due torri e cercheremo di andare lì a questo punto dobbiamo giocare solo esclusivamente per la vittoria poi tutto quello che viene poi alla fine è importante senti Marco tu continui a ripetere spesso io ci credo qualcuno dice vabbè ma questa è follia credere alla salvezza però forse ci si dimentica che c'è la scorciatoia se così vogliamo definirla dei play out che ad oggi sembra obiettivamente la possibilità più concreta l'obiettivo nostro è quello di andare a centrare la parte più alta dei play out anche perché ti permette di giocare la partita in casa però come ho detto prima la salvezza diretta a questo punto se non vado errato sono a 10 punti però io ho visto che è un campionato la classifica molto corta e si può sperare a tutto però già da questa domenica qua dobbiamo cambiare la mentalità perché io parlo sempre con i ragazzi voglio fargli capire che per arrivare agli obiettivi bisogna anche rinunciare a qualcosa e loro sicuramente non è che devono rinunciare a cose stratosferiche però devono rinunciare a volte anche a piccolezze che possono farci veramente arrivare a questa salvezza e io cercherò tutti i giorni agli allenamenti ad inculcargli queste cose perché a me hanno permesso di fare una carriera importante a loro deve permettergli prima di tutto di salvarsi quest'anno per poi andare a cercare un contratto per gli anni prossimi il club velico di Crotone ha ospitato giovani velisti provenienti da ogni parte d'Italia per allenamenti che in questo periodo dell'anno trovano la condizione ideale nella nostra città e nel nostro mare prima cosa? prima mi dici come ti chiami e poi da dove vieni? mi chiamo Viola e vengo da Imperia complimenti e cosa ne pensi di Crotone di questo tempo del vento che vi dà la possibilità di allenarvi? il vento è un po' forte però sei brava? si dai si che sei brava la tua specialità ti consentirà di puntare a qualcosa di importante? no no però cambia sport no mi piace bravissima tu ti chiami? Liam e vieni da? Finlandia però mi sono trasferito in Italia a Trento ma tu sei nato in Finlandia? si si complimenti per il tuo italiano lo parli benissimo si perché il mio papà è italiano e i tuoi programmi quali sono? ma... vincere la tua amica? si ti chiami? Marta e vieni da? Palermo a Palermo insomma dai penso che anche voi abbiate un po' di vento mai? molto poco e quindi scusami come fai ad allenarti? infatti vengo sempre qua bravissima ti piace venire qui? si per le condizioni tu ci sarai agli europei del 2016? penso di no perché sarà il mio primo anno l'anno prossimo e non mollare? no mai Sofia Loren? no e Sofia come? Giunchia e viene da? Palermo siete purtroppo voi costrette a ad andare in altre parti per allenarvi? si la tua specialità ti consentirà di partecipare agli europei? speriamo ma devi qualificarti vero? si te lo auguro in bocca al lupo grazie 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 devi vincere eh? l'ascolto delle altre realtà per noi è sempre stato un punto di forza Riva del Garda Trieste hanno tradizioni robuste competenze eccellenti e quindi ci consigliano ci dicono cosa fare poi ascoltiamo i ragazzi cerchiamo di capire da loro sia le esigenze che le prospettive e alla fine di offrire un servizio un pacchetto integrato tutto sommato che va dal charter delle barche fino al recupero nell'aeroporto più vicino all'individuazione di hotel e bread and breakfast a prezzi estremamente concorrenziali da questo stiamo avendo risultati risposte positive? si molto molto perché la città comincia a capire d'altra parte in questi giorni abbiamo atleti che provengono da Riva del Garda da Trieste da Napoli da Imperia da Palermo da Palermo da Reggio Calabria da Augusta ovviamente da Grotone e quindi alberghi affollati bread and breakfast affollati ristoranti che fanno due turni si parla di turismo in senso in modo concreto grazie alle nostre condizioni anche oggi caldo non ci sono più di 17-18 meno 17-18 gradi e vento